Parma-Milan, la partita che c'è stata oggi 10 aprile 2021 termina con la sconfitta del Parma e ovviamente la vittoria del Milan che ne fa ben tre di gol. Il Parma fa un solo gol e basta, vi ricordo infatti che a segnare è stato Riccardo Gaiolo al 66esimo minuto di gioco del secondo tempo. A segnare invece per quanto riguarda il Milan, la squadra rossotera per eccellenza, è stato Rebic all'ottavo minuto del primo tempo, poi Frank Kessler e Raffaele Alò a 90 più 4. C'è stata un'espulsione al 60esimo minuto di gioco del secondo tempo del grande Zlatan Ibrahimovic. Un Milan davvero tenace, un Milan davvero straordinario, un Milan davvero meraviglioso che è riuscito a vincere questa partita facendo ben tre gol. Il Parma sembrava veramente giù di forma, non al piano delle proprie forme, ma delle proprie forze. Vi ringrazio per l'ascolto cari utenti di Youtube, il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, datemi le vostre opinioni, mi raccomando, ci tengate averle. Un saluto caro e al prossimo video, una buona sera da voi. Un saluto caro e al prossimo video,